Ciao, mi chiamo Giuseppe e vengo da Catania. Intanto volevo ringraziare i maestri ed amici di Alberto Barletta e Elisa Parodi che mi sostengono da tanto tempo e credono in me, senza i quali non sarei qui. E' anche estemporanea perché grazie alle sue iniziative promuove la musica ai giovani e sono entrambi fondamentali al giorno d'oggi. Oggi sono appunto qui per chiedere il tuo sostegno, perché fare tanta bella musica comporta diverse spese, non solo di tempo e di studio, ma anche economiche. Molte volte, dovendo viaggiare e pernottare fuori casa, sulle tasche di ogni famiglia. Quindi io spero che con poche note sia riuscito a trasmetterti quello che provo e penso ogni volta che suono e eseguo qualcosa e spero che tu possa aiutarmi. Sono per te.